Previsioni meteo per venerdì 31 luglio. Al nord, tempo a tratti instabile al mattino su ovest Alpi, Piemonte, Liguri ed Emilia-Romagna con rovesci sparsi in graduale attenuzione. Al centro, irregolarmente nuvoloso sul versante adriatico con piogge e qualche temporale che al pomeriggio interesserà anche l'Appennino e le zone interne di Lazio e Toscana. Al sud, ampie e schiarite al mattino, maggiore instabilità pomeridiana su Appennino e murge con rischio di piovaschi o locali temporali, in estensione all'arco ionico. Venti, moderati da nord-ovest con rinforzi sull'adriatico. Mari fino a mossi, temperature stazionarie.